Buongiorno a tutti dalla Salamanica.com, un sito tutta la magia. Oggi siamo qui con Doriana, di Terapia del Qualcattomanzia. Beh, per un motivo particolare. Sono passate anche abbondantemente le due settimane che avevamo messo a disposizione per scriverci. Allora, oggi daremo i nomi dei vincitori del nostro contest, dove avevamo messo giù tre carte e chiedevamo una interpretazione di queste tre specifiche carte dei tarocchi. Allora, siamo arrivati oggi al dunque, dunque avrete a momenti i nomi dei vincitori. Ricordiamo i due premi in palio di chi ha partecipato sul canale di Doriana. Avrà una lettura di 30 minuti gratuita. Mentre chi ha partecipato sul mio canale, sotto il mio video, ha commentato con la sua interpretazione, ora si beccherà questi tarocchi che vedete qua, gli essenzial tarot. Siamo piaciuti? Sì, me li compro. Per quanto riguarda il tuo canale, chi ti è piaciuto di più, Doriana? Allora, è stata dura. Non avete commentato in tanti, però quelli che hanno commentato hanno dato delle belle interpretazioni. Allora, io mi sono portata proprio il telefono per decretare l'uncitore, ed è Franca Pozzer. Quindi, Franca, quando vuoi contattami, hai la lettura gratuita di 30 minuti. Grazie Franca, bravissima! Brava, brava. Allora, per quanto riguarda coloro che hanno commentato invece sotto il mio video, innanzitutto ringraziamo Pietro De Palo, prestigiatore, la Lucia Rizzo, che ha partecipato anche lei, Evatar, e infine, anche Franca Pozzer, che ha partecipato anche dalla mia parte. Sì, e te lo dirò anche i miei, perché ci sto ringraziando un po' tutti, hai ragione. Però, 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 ora arriviamo al dunque, il mazzo va a tre di spade, che ha dato una sua ottima interpretazione, con tanti buoni auguri, anche per quelli che andranno a leggere il suo commento. Tre di spade, ora ti scrivo sotto il commento, hai vinto, poi ci contattiamo, e ti mando, ricordo, a titolo completamente gratuito, questo bellissimo mazzo di tarocchi. Voglio ringraziare anche io le persone che hanno dato comunque un'interpretazione, che è sempre Pietro De Palo, prestigiatore, che ha scritto anche a me, Angela Vinci, Sara, non c'è nessun cognome, Simonetta Franco, Paola Dringoli, Maria Francesca Artale, Evata, Katia Guglielmo, Franca Pozzer, Lucia Rizzo, no, Lucia Rizzo, scusate. Lucia Rizzo. E lasso nella manica. Lasso un commento anch'io. Bene augurante. Dunque, comunque, grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare, tutti coloro che si sono iscritti ai nostri canali. Grazie, grazie. Grazie veramente mille. Per cui, il video finisce qui. Ringraziamo, salutiamo e alla prossima. Ciao.